Ma che cazzo, ma che stiamo scherzando? Cioppi tu con le tue mannacce, con le tue unghie Cioppi Cioppi, perché non fai il bravo tu? A luat-o con chiar straiasca Te bagi tu, dup' aia tu mori si... Ce stii, meri o spune, mai din cauza da, mama, m-am despartit Mi-a parat in punga, baca capul No, 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 no. Ma ce? Da, si din cauza asta s-a disparsi in el de aia, che purta scurt? Da. Stigione aia lua cu spriu si a pieta, stigione aia sa mai strasca. Stigione aia sa mai strasca. Nu trebuia, lasca era tanar, poate de aia i-a purtat mini-jump. Stigione aia trebuia scurt? Da. Da. Si, poti ascurti ce l-a baiutat dupai? E, bucati. Si, poti ascurti ce l-a baiutat dupai? Ce faci cu asta? Stigione aia si. Eh? Lidia, fumeazza, fumeazza. E, mai tragi tutta zgargea, lasa rubatori. Da. Allora raga, buona sera, piu o meno. Sono le 5 e mezza, praticamente quasi. Cosa c'è? Ma si, ma torna. Allora, abbiamo fatto una mini spesa al di più. Mi sono comprata anche la nutella. Perché volevo andarmi a fare le crepes. E poi andrò a Trento. E niente, appena torno a casa vado a vedere i cagnolini. Quindi... Mia mamma sta già tornando stranamente. Ho fatto così veloce. Ciappi, indovina chi sta arrivando? Indovina? Indovina un po' chi sta arrivando, indovina. Vediamo se indovini. Eh? Indovini. Chi sta arrivando? Indovina. Preazione tra 3, 2, 1... Un po' spartellare... Finito? Ma lui piace come i bambini piccoli, forse in che pezzo? Sembra un allarme di una macchina, basta, dai che torna, hai finito, che hai visto, che hai visto, che hai visto, che hai visto? Vabbè raga, tra un po' righiamo a casa, penalmente. Eccomi arrivata raga, allora sono sotto casa di me, me lo sono appena parcheggiato. E comunque volevo dirvi che sì, ieri vi avevo detto appunto che andiamo a vedere i cuccioli, solo che alla fine non li abbiamo visti perché uno sono troppo piccola, sono appena una settimana e la mamina è un po' gelosa quindi non te li lascia tanto toccare. E poi era da sua figlia, almeno sopra, quindi non volevano disturbare. Quindi ha detto che fra due o tre settimane può essere che ce li fa vedere, appena iniziano anche loro a camminare, con le robe lì. E niente però abbiamo visto la mamma, la Sissi, era molto contenta di vederci perché sono stata io, mia mamma e Anna. E niente quindi, I'm sorry, lo so che l'avevo detto e volevo appunto chiarire oggi il perché non avete visto il video. Ecco così evito anche le domande. E niente quindi appena posso andare a vederli io ovviamente li faccio vedere e vi vloggo tutto. Niente. Io adesso salgo su e mi metto a editare qualche video. Quindi ci vediamo dopo. Ciao. Ah e comunque raga, lo so che abbiamo fatto il test ed era risultato negativo. Però, PS, il ciccolo non mi è ancora arrivato. Siamo al secondo giorno di ritardo. Quindi, se vuoi in sempre c'è ritardo, oppure riferemo il test per tre giorni. Oh mio Dio. Mio Dio. Allora, sono le 20 per me. E sono appena stata giù a prendere una cosa dalla macchina. E vi devo raccontare questa scena. Cosa mi è successo? Allora, mentre stavo scendendo, stavo scendendo giù per le scale. Non ho più preso l'ascensore. E nel frattempo, le ultime scaline mancavano. E mi si è spenta la luce. Delle scale. E quindi, ero senza tre, senza niente. Insomma, per farmi luce, niente. E niente, io credevo che mancasse ancora un scalino. Invece ne mancavano due. E vedete questa scena che... Vado. Metto male il piede. Stavo anche per casere. Mi sono fatto un po' male, però... Cioè, poco poco. Mi fa male. Mi metto male il piede. Mannaggia. E poi assai io ho preso la scensore. E vabbè, roba che capita. Allora. Il mio moroso. È al lavoro. Appunto, consegnare le pizze. Allora. Io ho preso il pc di mio moroso. Ciò che è qui disponibile. Senza che tiro fuori il mio, che è già imballato. Andiamo ad accenderlo. Questo pc, praticamente, è quello che aveva mio fratello che aveva preso dal posto di lavoro che tutti buttavano questi pc. aveva un pc molto buono. Tutti li buttavo. Il mio fratello cosa ha fatto? Invece che buttarli se li ha presi alcuni. Ben tre. Questo qui e due fissi. E questo qui, invece, l'ha preso il mio moroso. L'ho pagato, ovviamente. 200-300 euro. Non mi ricordo quanto ho dato. E... Oddio il pin. Che pin era? Non mi ricordo. Ah, bene. 15-73. Un peccato alla seconda volta. Bene. Allora, colleghiamo internet perché voglio andare a vedere un film ovviamente credo che metterò vediamo adesso perché se non trovo niente metterò un film rosso. Non c'è niente che mi inspiri. Volevo guardarmi Lucifer però ho visto che non è uscito niente di nuovo. Credo. Adesso vado a vedere. Voi state qua. Ecco. Allora. Vediamo se riesco a connettere. Oddio. Auci. Che male che fa. Sì, lo so, sono in imbranata. Vabbè. Più imbranata di me non ce l'è.